Si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli su presunte tangenti per evitare controlli fiscali che ha portato all'arresto del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Livorno Fabio Massimo Mendella e del commercialista Pietro Deriutra. Gli indagati risulterebbe anche il comandante in seconda della Guardia di Finanza, generale Vito Bardi, accusato di corruzione in vicende collaterali. Leggo falsità sul mio conto legate al Mose, smentisco con sdegno e nel modo più categorico. Cosilletta su Twitter prende le distanze da un suo presunto coinvolgimento nell'inchiesta sulla Tangentopoli in Laguna. Intanto oggi in Commissione per le Autorizzazioni della Camera inizia l'esame della posizione di Giancarlo Galan. Nei confronti dell'ex governatore del Veneto pende una richiesta di arresto. Secondo l'accusa, dal 2005 al 2011 avrebbe ricevuto dal Consorzio Venezia Nuova uno stipendio annuo di un milione di euro. Governo e maggioranza battuti in aula sulla responsabilità civile dei magistrati. Approvato un emendamento della Lega con 187 sì e 180 no, che prevede sanzioni più dure per i giudici che commettono errori. Un fatto grave, commenta il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Sabelli, che nota in un momento che vede la magistratura impegnata contro la corruzione nelle istituzioni, questa norma indebolisce l'azione giudiziaria. Il provvedimento passerà ora all'esame del Senato. Dobbiamo correre per favorire gli investimenti in Italia, sostenerlo e Renzi dopo l'incontro a Pechino con il Primo Ministro Li Keqiang. In precedenza il Premier ha ricevuto le congratulazioni per le riforme avviate dal Presidente della Repubblica cinese Xi Jinping. Nuovo anatema del Papa contro corruzione e traffico di armi. Chi è corrotto ha tuonato il Pontefice durante l'udienza generale, chi è servo del potere, chi fabbrica le armi, non sarà mai felice nell'aldilà. Potere e vanità non ci promettono nulla. I mercanti di armi comprendano che un giorno tutto finisce. Grandi affari, poche tasse, sistemi fiscali troppo teneri, quelli sfruttati da colossi come Apple, Starbucks e la nuova Fiat non più italiana, su cui vuole vederci chiaro l'Unione Europea che ha aperto un'indagine per aiuti di Stato, il servizio. Le imposte fatte pagare dalle autorità fiscali di Lussemburgo, Irlanda e Olanda alle grandi società internazionali potrebbero configurarsi come aiuti di Stato. È l'ipotesi che ha spinto la Commissione Europea ad avviare inchieste nei confronti dell'autorità dei tre paesi dell'Unione che offrono i maggiori vantaggi fiscali, mettendo per ora sotto controllo tre big come Fiat, Apple e Starbucks. Il meccanismo utilizzato prevede di collocare i costi dell'impresa laddove si pagano più tasse e invece gli utili dove la tassazione è più favorevole, sistema finora tollerato e che ha consentito di sottrarre alle casse dell'Unione mancati introiti per mille miliardi di euro. Ma per il Commissario Europeo la concorrenza Almunia nel contesto attuale di restrizione di bilancio è particolarmente importante che le grandi multinazionali paghino la giusta parte di imposte e quindi le cose potrebbero cambiare. Non solo per Fiat, Apple e Starbucks, che tra l'altro dopo le critiche è tornata dall'Olanda in Inghilterra, ma anche per altri giganti come Amazon, Google, Facebook e eBay, che hanno concentrato il fatturato europeo nella favorevole fiscalmente parlando Irlanda. Decine di morti nell'offensiva in Iraq dei miliziani caidisti dello Stato Islamico che dopo Fallujah hanno preso il totale controllo di Mosul. Oltre mezzo milione di civili in fuga, appello del governatore ai cittadini a combattere contro i jihadisti. Il premier al Maliki ha dichiarato lo stato d'emergenza. È ripreso oggi a Bruxelles il trilaterale fra UE, Russia e Ucraina sul prezzo del gas e i rimborsi del debito di Kiev. Diversi nodi da sciogliere, l'Ucraina ha respinto l'offerta di Mosca per una riduzione del 20% del costo delle forniture e chiede invece di riscrivere interamente il contratto per ottenere un prezzo di mercato. I tassisti di Londra, Parigi, Roma, Milano e altre grandi città europee mobilitati contro Uber, la società californiana che propone servizi di car sharing. Nel capoluogo lombardo il servizio si ferma per l'intera giornata fino alle 22. Lanciata nel 2009, l'app Uber consente ai clienti di connettersi online da smartphone e tablet per prenotare le auto a noleggio. Grazie a tutti.